Fumata bianca per la battipagliese, la dirigenza con il patrono Mario Pumpo ha incontrato la sindaca Cecilia Francese e l'assessore allo sport Michele Gioia, trovando l'intesa tra le parti. La squadra è pronta per essere iscritta in eccellenza. Alcuni tifosi si erano fatti sentire anche sotto il comune per chiedere di sapere il futuro delle zebrette. Poi la decisione di trovare tutti insieme un'intesa e poter far proseguire il campionato di eccellenza alla formazione della città di Battipaglia.